ciao a tutti bentrovati sul mio canale veri asmr io sono federica e quello che state per guardare è un nuovo video asmr pensato per farvi rilassare grazie per averlo scelto questa sera oggi voglio provare a farvi addormentare mostrandovi alcuni oggetti che mi sono stati regalati nel periodo delle festività e naturalmente utilizzerò per tutta la durata del video questo tono di voce in whispering per questo vi consiglio di ascoltarlo indossando le cuffie oppure gli auricolari giù in descrizione trovate a proposito un link affiliato per un paio di cuffie che sono molto molto adatte per l'ascolto della smr soprattutto quando si è corregati nel letto spero che questo video vi piaccia e che vi interessi vedere questi nuovi oggetti c'è anche una sorpresa molto importante che riserverò per la fine del video quindi mi raccomando guardatelo fino alla fine e non andate via prima di aver lasciato un like di supporto ed esservi iscritti se non siete ancora iscritti naturalmente e aver attivato la campanella così da non perdere i prossimi video rilassanti bene direi di iniziare dunque il primissimo oggetto che voglio mostrarvi è appunto questa lampada vi farò un close up perchè la trovo bellissima è una lampada in silicone credo comunque un materiale molto morbido che fa venire la sensazione dell'asmr solo toccarlo ed è come vedete a forma di gatto ti ricorda un po' a bushin ti ricorda un po' a bushin Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E anche di questa vi lascio l'inquadratura a close up. Grazie a tutti. La confezione è davvero molto molto carina. E' il profumo delizioso. Ricordo che un po' di tempo fa avevo il deodorante all'iris, sempre dell'erbolario, crema deodorante. E' veramente buonissimo. E poi questo colore l'adoro, è molto molto rilassante. Sempre rimanendo in tema bellezza, ho ricevuto un profumo. E il profumo in questione è questo. Si chiama Mimosa, è uno dei tuoi lab made in France. 30 ml. Lo apro. Vedete il flaconcino? Vedete il flaconcino? Lo adoro. Lo adoro. Non. Non. Se. Non. È. Sì, sì, sì. Adatto, secondo me, a chi ama le fragranze completamente fiorite e dolce. Andiamo avanti con questa busta. Avete già letto il nome del brand? All'interno della busta c'è una scatola. All'interno dell'olio. All'interno della busta. All'interno della busta. All'interno di questa scatolina c'è un orologio eccolo qui, bianco, con questa chiusura, molto molto carino il quadrante è quadrato e ci sono degli strass qui sulla corona è davvero molto 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 bello questo vellutino della scatola fa un suono adorabile un altro pensierino che ho ricevuto è stato questo libro che ho già iniziato a leggere si intitola lezioni di comicità ed è di Matteo Andreone guida e pratica della creatività amoristica e linguaggio COC verso l'uomo e le prevenzioni di crack Matteo Andreone è comediografatore e registro letterale e tre fondatore dell'accademia nazionale del COC da ogni organizza e gestisce corretta teatro COC l'interapia creativa, l'amorismo e l'impresa il brand international study of humor studies ha tenuto conferenze sul pensiero omoretico e le sue precauzioni delle lettere non chiedetemi perché vi sia stato regalato questo libro perché dire il vero non l'ho compreso bene nemmeno io non c'è un processo che mi piace non chiedere non chiedere non chiedere Siamo arrivati al penultimo regalo Lascio la grande sorpresa per il finale Il penultimo regalo A parte vabbè Un po' di soldini Che ho ricevuto E' stato questo cofanetto Spero si veda bene Perché c'è la luce Che fa un po' di rifless Qui c'è il principe azzurro Travestito da ranocchio E' all'interno Di questa valigetta Che tra l'altro mi rappresenta molto Perché io sono perennemente la donna con la valigia Purtroppo c'è A parte un sacchetto di M&M's Che però ho già mangiato Questa scatola contenente delle bustine da tè Sir Winston tea Vaniglia, cannella e zenzero E' all'altro mi rappresenta di M&M's E' all'altro mi rappresenta di M&M's E' all'altro mi rappresenta di M&M's Bene, non mi resta che mostrarvi la sorpresa finale Questo è un regalino che ho ricevuto da parte di uno di voi Dani, grazie, 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 grazie Mi sono stati regalati altri oggetti scelti direttamente dalla mia lista Amazon Che trovate tra l'altro qui sotto in descrizione Se volete darle un'occhiata Però questo è arrivato proprio durante il periodo di Natale E quindi lo considero un regalo di Natale a tutti gli effetti E' molto interessante per voi E ovviamente anche per me Quindi ve lo mostro subito Togliamo un attimo lui Credo valga la pena fare un unboxing di questo Quindi fatemi sapere se vi interessa vederlo Perché nel caso potrei dedicare un video proprio all'unboxing di questo Comunque è il famoso microfono Rode NT1A Uno dei microfoni più silenziosi per l'SMR In realtà questo andrebbe utilizzato in coppia Quindi con un altro microfono uguale Che comprerò prima o poi E' ancora sulla mia lista Amazon Ma conto di prenderlo Perché l'effetto binaurale Che si ottiene con due microfoni di questo tipo E' veramente eccezionale E non vedo l'ora di provarlo Quindi adesso servirà anche l'asta Per tenerlo E dovrò organizzarmi un pochino con gli spazi Ma posso farcela E sono veramente contentissima di questo acquisto Spero che lo siate anche voi Per sperimentare una nuova modalità di suono Per i miei ASMR futuri Bene Adesso è giunto il momento di salutarci Spero tanto che questo video vi sia piaciuto Fatemelo sapere E mi raccomando Lasciate una traccia del vostro passaggio Con un commentino qui sotto E noi ci vediamo come al solito Se vi va Nel prossimo video Bascini fatosi Buonanotte Adesso Tocca a te Hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella Per non perderci di vista Oppure abbonati Se vuoi sostenermi Ed entrare a far parte Della Fairy Crew Ah E se vuoi continuare a rilassarti Clicca su uno di questi altri video Che ti lascio qui intorno Penso possano piacerti Buonanotte